Vice sindaco, un incontro con i residenti che abitano sotto il ponte di Belvedere, c'è tutta la questione legata alla sicurezza, voi avete già ribadito, c'è anche uno studio dell'università, che il ponte è sostanzialmente sicuro, però per la tranquillità dei cittadini proponete anche l'abbattimento della palazzina, quindi la possibilità di ricollocarli diversamente? Sì, il ponte è tecnicamente sicuro e quindi amministrativamente non ci sono problemi. Abbiamo esaminato la problematica del ponte da appena abbiamo avuto l'onore e l'onore di guidare la città dell'Aquila, dopo che per più di otto anni non si era presa una decisione, probabilmente nel dubbio se abbatterlo completamente o sostituirlo parzialmente. Abbiamo preso la decisione della sostituzione della campata centrale proprio perché abbiamo uno studio redatto dall'Università degli Studi dell'Aquila, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Stagliatti e adesso anche il nuovo studio Romolini, lo studio che ha vinto l'appalto per il concorso per poter redigere il nuovo progetto esecutivo e definitivo sta confermando gli stessi dati, sappiamo quindi che i pilastri stanno a posto. Per quanto riguarda la campata, in particolar modo la campata centrale, ricordiamo questo, è un tipo di architettura molto vecchia, è un calcestruzzo precompresso, una delle modalità di costruzione che oggi non si usano più, probabilmente a qualcuno premeva mantenerlo anche per una sorta di storicità, ma ha delle caratteristiche di essere molto pesante e non duttile al tipo di utilizzo che un'amministrazione ne vuole fare nel momento in cui voglia portare dei cambiamenti. Abbiamo deciso con la delibera di giunta di dicembre di sostituire parzialmente il muro, in particolar modo tutta la campata centrale lasciando gli stessi pilastri. Le abitazioni sotto il ponte oggi costituiscono una perplessità, dopo il disastro di Genova ci si è chiesti se valga la pena mantenere delle abitazioni, seppur sicure, dato che dopo il terremoto, seppur costruite nel ventennio, dopo il terremoto del 2009 non hanno avuto alcun danno, se valga la pena mantenere queste abitazioni di sotto dei ponti, ma non per la precarietà dei ponti, che comunque abbiamo già potuto constatare non soltanto da Genova, ma anche in altre situazioni, il cemento armato ha una vita e quindi anche questo ponte ha una vita alla fine della quale bisognerà prendere dei provvedimenti, quelle abitazioni vorrebbero essere abbattute proprio perché il pericolo vorrebbe essere costituito anche dal distacco di pezzi di calcestruzzo da un ponte oppure da camion o da mezzi di trasporto che possono perdere del materiale che hanno a bordo e chiaramente mettono a rischio l'incolumità degli abitanti o comunque delle case e delle abitazioni sottostanti. Proprio questo è un tipo di dibattito che si sta prendendo a livello nazionale, e cioè se delle abitazioni possono stare così ravvicinatamente sotto un ponte, di qualsiasi caratteristica che lo riguardi stiamo parlando.